Chi verrà nei prossimi giorni a visitare la mostra Donne dell'Arte in Toscana 2017 rimarrà stupito nel vedere delle opere ad oggi inedite di una pittrice toscana nata a Firenze nel 1871 e morta sempre nel capoluogo toscano nel 1948. Si chiamava Matilde Lucchini, ha dedicato ampio spazio a questa artista il quotidiano La Nazione di sabato 25 febbraio e ampio spazio ha dedicato a questa artista ritrovata anche il mensile La Toscana che ha dedicato due pagine a firma Daniela Pronestì, la nota critica storica dell'arte che in questi giorni ha studiato a fondo la figura, la personalità di Matilde Lucchini che non fu solo pittrice, ma anche operatrice culturale, animatrice di un salotto, anzi di una pensione culturale, una pensione chiamata Vertunno che si trovava a Radicofani in Val d'Orcia dove la famiglia, la famiglia del padre, il senatore Odoardo Lucchini trascorreva lunghi periodi dell'anno. Il nonno infatti da Pisa si era trasferito come medico a Radicofani e poi la famiglia ovviamente si era radicata in quel territorio pur mantenendo stretti legami con Firenze, tant'è che Matilde nacque proprio nel capoluogo toscano. Questo insieme di opere sono state raccolte dall'antiquario fiorentino Marcello Chiavacci che le propone in questa occasione e dal termine, dalla conclusione della rassegna dal giorno 8 marzo saranno in esposizione nel suo storico negozio fiorentino di Via della Spada aperto al pubblico dal 1939, quindi uno degli esercizi più longevi della città di Firenze. Queste opere ritraggono soprattutto personaggi di stampo ottocentesco e del primo novecento della famiglia Lucchini e delle persone che lavoravano per questa importante famiglia. Ci sono però anche dei paesaggi che ci rimandano alla Radicofani di fine ottocento e inizi novecento, quindi nel paesaggio un po' diversa da quella attuale, un paesaggio più brullo e meno rimboschito dagli uomini. Vi ricordo che Matilde Lucchini alla fine del novecento, fra il 1898 e il 1900 ospitò nella sua casa di Radicofani il giovane pittore Gino Severini che veniva da Cortona, il padre era valletto della pretura di Radicofani e questo giovane fu avviato alla pittura proprio da Matilde Lucchini. Qui ci sono anche delle lettere e delle testimonianze di Gino Severini, poi divenuto uno dei più grandi pittori a livello mondiale del novecento, che testimoniano questo debito artistico avuto nei confronti di Matilde Lucchini. Quindi noi invitiamo i telespettatori a venire a visitare la mostra collettiva Donne dell'arte in Toscana e di soffermarsi con particolare riguardo sulle opere di questa artista ritrovata grazie alle ricerche della dottoressa Daniela Pronestie e dall'amore per la sua professione di antiquario di Marcello Chiavacci. Il giorno 8 marzo, giorno della festa della donna, giorno anche della conclusione dell'esposizione Donne dell'arte 2017, si terrà alle 17 una conversazione che avrà come principale interlocutrice proprio la dottoressa Pronestie, ha promesso la sua partecipazione anche il dottor Michele Loffredo, direttore di Casa Valdarria a Rezzo, studioso di Gino Severini e ci sarà ovviamente l'antiquario Marcello Chiavacci. In questi giorni impegnato per la fiera antiquaria di Parma, ma sicuramente presente l'8 marzo per la conclusione della mostra e per la presentazione alla stampa e al pubblico delle opere di Matilde Lucchini. Quindi vi invitiamo a venire a visitare la mostra e appunto dedicare ampio spazio della vostra visita alle opere di Matilde Lucchini.